Ma vuoi che non sei rimasto al paese tu, no? Perché in Italia c'è la moda. È arrivato dall'Africa per cercare lavoro. Ciao. Ciao. Ma ha trovato molto di più. Billo, il grande H.R. Ma chi c'è? Oi, 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 che peccato. Ma chi è questo Billo? Eh, a proprio, chi è? Lui era un morto di pane, tipo questo qua, tuo. Il mercato va onde? E stavolta l'onda vi è dal paese tuo. E che so, due stronzi. Ma in Africa c'è?